L'ex commissaria europea per la concorrenza Nelly Kroos è stata direttrice di una società offshore durante il suo mandato e quanto emerge dai cosiddetti Bahamas Leaks, le rivelazioni sui conti e gli affari segreti di politici ed imprenditori a scavare nella massa di documenti riservati legati al paradiso fiscale e ancora una volta il consorzio internazionale dei giornalisti investigativi. Le informazioni appaiono oggi in edicola in primis nel quotidiano tedesco su Deutsche Zeitung. Tra il 2000 e il 2009 Kroos è stata la guida di una società registrata alle Bahamas, la cui esistenza non è mai stata comunicata alle autorità di Bruxelles. La politica olandese spiega di essere stata direttrice non esecutiva, che la società non è mai entrata in fase operativa e di non aver tratto alcun vantaggio economico della situazione. Le rivelazioni sul paradiso fiscale delle Bahamas arrivano a cinque mesi dallo scandalo dei cosiddetti Panama Papers che hanno messo a nudo gli interessi offshore gestiti dallo studio Mossack Fonseca.